Un vero e proprio esercito a quattro zampe è quello residente a Piacenza, un cane ogni 10 abitanti per l'esattezza 10.800 cani, dei quali quasi 1.500 iscritti solo nell'ultimo anno. Stiamo parlando dei cani regolarmente registrati presso l'ufficio anagrafe del comune e presso i veterinari privati. A questi numeri vanno poi aggiunti ulteriori animali non segnalati dai proprietari, nonostante in realtà l'iscrizione all'anagrafe canina sia totalmente gratuita. Un altro dato interessante che emerge dalla banca dati è il forte incremento per alcune razze che sembra seguire ondate legate a mode. A Piacenza si contano ad esempio 260 Jack Russell, 230 Labrador e 130 Pitbull, mentre non è possibile quantificare gli incroci. Anche a seguito degli ultimi episodi di gestione scorretta segnalati all'ufficio tutela animali, alla polizia locale o alle guardie zoofile, l'amministrazione comunale ha pensato di organizzare entro quest'anno un corso formativo dedicato alla gestione del cane che si terrà presso il canile municipale con l'intervento di figure specializzate, veterinari e comportamentalisti. Alcune lezioni saranno dedicate alle varie razze, molossidi, cani da caccia, cani da guardia. La partecipazione al corso, gratuito, sarà su base volontaria per i proprietari o futuri proprietari residenti nel comune di Piacenza. Il corso potrà diventare obbligatorio con apposita ordinanza sindacale a seguito di particolari dei casi come il mancato rispetto del benessere dell'animale, in caso di cani lasciati liberi in luoghi pubblici per disturbo o per altre inosservanze al regolamento comunale per la tutela degli animali da compagnia. Al termine del corso non è previsto un esame ma sarà rilasciato un attestato di partecipazione.